Certamente è un fatto gravissimo, soprattutto per le modalità in cui è avvenuto. Il pensiero va ovviamente ai nostri uomini, alle famiglie, alle famiglie che in questo momento stanno soffrendo come stiamo soffrendo noi, perché parliamo di un carabiniere, di vigili del fuoco, e quindi ritengo che è veramente il momento del dolore. Sicuramente per quello ci sta la magistratura che sta anche indagando, perché certamente la dinamica va accertata nel modo assolutamente corretto e quindi è appena avvenuto. Ritengo che ci siano degli accertamenti, degli esami da fare anche per verificare bene il tutto. Perché parliamo di carabinieri, parliamo di vigili del fuoco, e ritengo che la presenza del ministro dell'interno sia una presenza dovuta, perché ho un grande dolore per essere vicino anche alle famiglie, e quindi credo che era dovuto assolutamente essere qua. Grazie. 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 Grazie.